Massimiliano Fedriga, come commenta le dimissioni di Giorgio Napolitano? Ci auguriamo che il prossimo Presidente della Repubblica sia un Presidente che risponda all'esigenza, alle necessità e al dramma che stanno vivendo i cittadini del nostro paese e non ai diktat europei. Purtroppo in questi anni anche la figura del Presidente della Repubblica ha ricoperto un luogo di imposizione di politiche europee che hanno massacrato e ucciso imprese, famiglie e cittadini di questo paese.